Cominiamo con la nostra musica, il pezzo ora in scaletta è il All Right Now del gruppo E-Free, grande gruppo inglese. E-Free erano composti da Paul Rogers alla voce, Paul Krosser fa la chitarra, Deciano Bene, Andy Fraser al basso e Simon Kirk alla batteria. E quindi ci ascoltiamo All Right Now, sono i Free! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!